Ciao a tutti, qui alla Smao si parla ovviamente anche di cellulari, noi siamo qui con Lorenzo D'Amato, Product Manager di Samsung. Allora, che cosa ci puoi far vedere e di cosa ci puoi parlare? Sì, oggi vorrei presentarvi nuovi prodotti con sistema operativo Bada, con la possibilità di sviluppare applicazioni da parte di chiunque voglia e ovviamente da parte dei clienti di usufruire di tante soluzioni adattabili sui nostri smartphone. Parliamo di smartphone molto competitivi perché sono posizionati sotto 200 euro con i quali posso interagire ovviamente con un display full touch con tutte le mie applicazioni, sia ludiche sia ovviamente anche business, quindi connessione wifi alla rete, espansione di memoria, una fotocamera per scattare foto e registrare video, possibilità di sincronizzarmi con i social network, piuttosto che di scaricare applicazioni da Samsung Apps. Prima di guardare il telefono, quindi mi confermi che questa diffusione degli smartphone è notevole ed è un prodotto di interesse per il pubblico ormai, anche di massa diciamo. Assolutamente, il vantaggio che possiamo avere adesso è che uno smartphone che una volta era un prodotto di fascia alta e che comunque chiedeva un grande investimento, oggigiorno lo troviamo a prezzi molto competitivi per cui tutti quanti possono averne uno. Vi vorrei presentare i nuovi tre prodotti della famiglia Wave, in particolare Wave Lite, Wave Pro che ha la tastiera QWERTY o una versione 3G con connessione high speed. Il vantaggio di avere questi prodotti è disporre di un display da oltre 3 pollici e accesso a un mondo infinito di applicazioni attraverso il Samsung Apps che troverò poi scaricato direttamente sul telefonino. La possibilità ovviamente di espanderlo, anche di collettere il telefono con Social Lab mi permette anche di arricchire la mia rubrica con contenuti provenienti dai social network piuttosto che dalla posta. La rotazione è ovviamente supportata per cui potrò andare a scrivere messaggi anche usando una comoda tastiera QWERTY in base all'orientamento del telefono. La personalizzazione del dispositivo è poi completa perché poi mi posso aggiungere contenuti sulla schermata principale, secondo quelli già disponibili o che appunto scarichiamo e di connetterlo al PC per sincronizzarlo anche con i miei contatti, scaricare musica e arricchire, secondo le mie esigenze, il contenuto del telefono. Connessione Wi-Fi, Bluetooth, nelle versioni con tastiera ovviamente abbiamo un vantaggio di poter scrivere messaggi in comodità usando una comoda tastiera QWERTY. Nella versione HSDPA ovviamente il vantaggio di avere una connessione anche a udoro quindi in assenza di copertura Wi-Fi alla rete e ovviamente tutti e tre hanno l'antenna GPS integrata per cui posso installarci sopra un navigatore e usarlo anche come navigatore GPS. Si trovano presso tutti i rivenditori i prodotti telefonia mobile. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.